La nostra regina delle uve, il nostro cavallo di battaglia l'Uvitalia ha sempre tirato, è stato per l'eccellenza il prodotto top. Quest'anno, almeno detto da tutti i commercianti, c'è stata pochissima richiesta, in più abbiamo avuto dei problemi con il tempo, le umidità, si è guastato un po' il prodotto, avevano dei problemi di commercio, dicevano, però oltretutto noi siamo riusciti a salvarla con tanto sacrificio, però a nulla è servito. E questo è il disperato grido d'allarme di Saverio Radogna, responsabile dell'azienda agricola San Nicola di Turi, cui il vigneto è in agro di Rutigliano. Mille quintali di uva Italia, pronta la settembre ma invenduta e rimasta sui ceppi, ora non c'è altra via d'uscita che consegnarla alle cantine per la produzione di succo d'uva, neanche per la vinificazione. Dopo più di tre mesi di attesa, nella speranza di venderla, si è giunti alla necessità di tagliarla per salvare almeno un minimo di guadagno, altrimenti lasciandola sui ceppi andrebbe distrutta. Il nostro lavoro vannificato del tutto. Senta, a chi si rivolge lei adesso in particolare? Io mi rivolgo alle istituzioni politiche, è una tragedia per me questa, l'agricoltura ridursi a questi livelli, cioè non ha più senso, niente, è una disperazione totale. Tutto ciò ha portato a una perdita di circa l'80% del guadagno previsto e questo potrebbe portare l'azienda alla chiusura. Non ci sono alternative, anche perché una persona, un produttore dovrebbe investire per non guadagnare niente, per perdere il proprio investimento, quindi non avrebbe senso.